Benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento con la Tutta Bici Extra, la nostra puntata numero 175. Proseguiamo sul solco delle precedenti, sono tante le gare, tante le manifestazioni giovanili, ma non solo. Oggi ne andiamo a vedere insieme altre due, tutte e due dal Veneto, la prima in particolare dalla provincia di Treviso. Siamo a Cappella Maggiore dove lo spazio, anche questa volta, è completamente dedicato agli atleti juniores. Cappella Maggiore accoglie gli juniores italiani con una splendida giornata di sole e soprattutto con le proprie bellezze storiche e architettoniche. Un contesto spettacolare, quello scelto dalla Bike Team Consiglio del presidente Marco Biscontin insieme alle associazioni locali per promuovere il tradizionale appuntamento che si svolge con il patrocinio dei comuni di Cappella Maggiore, Sarmede, Fregona e della provincia di Treviso. 115 gli atleti che si sono schierati sulla linea di partenza per andare ad affrontare i 118 km in programma. Suddivisi 9 tornate iniziali a cui va aggiunto l'anello finale che comprende la salita di Osigua. C'è appena il tempo di abbassare la bandiera a scacchi ed è subito Bagarre in testa alla corsa con un terzetto composto da Jacopo Samogizio della SC Padovani, Stefano Benedetto della Gottardo Giochi Caneva e Giovanni Favero della Guadense Rotogal che tenta di prendere il largo. Si va a transitare per la prima delle 10 volte in programma sulla Gran Premio della Montagna di Lughera e vedete che il gruppo torna subito sulle tracce dei tre attaccanti del primo chilometro. Un inizio scoppiettante che precede invece una fase centrale di corsa piuttosto tranquilla che vede il gruppo transitare compatto sulle strade di Cappella Maggiore. Un appuntamento, dicevamo, tradizionale, quello che si corre da 26 anni in ricordo di Angelo Zambon e da 5 anni anche di Michele Vendrami, indimenticato dai propri colleghi che portano avanti con grande passione l'attività del bike team Cansiglio. In appaglio per l'edizione 2021 della gara di Cappella Maggiore anche il trofeo Modi SRL, Posa SRL e il Gran Premio Rova Lattonerie. Dicevamo una fase centrale di corsa che vede il gruppo sfilare spesso compatto ma non mancano gli appassionati per godersi lo spettacolo di questa prova che va in scena, dicevamo, su uno dei tracciati più belli della provincia trevigiana. Con le nostre immagini siamo già al chilometro 70 quando a tentare l'allungo è uno dei più attesi al via. Si tratta del Vicentino Matteo Scalco, della Borgomolino Rinascita Ormelle che decide di rompere gli indugi e di andarsene tutto solo quando al traguardo mancano ancora una cinquantina di chilometri e mancano soprattutto le principali difficoltà di giornata. Buono il passo di Scalco che tenta di gestire le energie in vista della finale di corsa. Sulle sue ruote si riportano ben presto altri tre corridori. Si tratta di Leonardo Vardanega con il dorsale numero 33 maglia dell'Unione Ciclistica Giorgione insieme con lui il dorsale 85 Luca Locatelli della Massi Supermercati e il Vicentino Nicolas Bellin della Work Service Speedy Bike. Questi quattro corridori vanno a transitare al cartello contagiri con un vantaggio di 45 secondi sul resto del gruppo. Un gruppo dunque che lascia spazio ai quattro attaccanti ma li tiene comunque sotto controllo. Siamo nuovamente all'imbocco della salita di Lughera e vedete che il gruppo inizia ad avvicinarsi ai quattro battistrade. Il primo a riportarsi sulle ruote degli attaccanti è nuovamente Jacopo Samogizio maglia bianco-verde dell'SC Padovani un atleta decisamente combattivo e in forma a quello che si sta mettendo in luce sulle strade di Cappella Maggiore. Una volta che Samogizio rientra sulla testa della corsa però si riportano anche tutti gli altri quindi il gruppo torna compatto ed è tutto da rifare quando siamo ormai al chilometro 90. Manca solo una ultima tornata del circuito iniziale poi bisognerà andare ad affrontare la salita di Osigo che dovrà essere anche quest'anno il giudice in vista di un attesissimo epilogo. Ma quando siamo ormai al suono della campana prendere in largo è un'altra coppia molto interessante. C'è di nuovo all'attacco Jacopo Samogizio il portacolori dell'SC Padovani che avevamo già visto e aveva scoperto al primo chilometro di gara e poi all'attacco per riportarsi sugli attaccanti di metà corsa e insieme con lui c'è Daniel Scherl un atleta friulano uno dei più interessanti del panorama friulano la maglia sua è quella bianco-rossa della UC Pordenone. Per questi due attaccanti che transitano al suono della campana con 35 secondi di vantaggio sul gruppo rimane da affrontare la principale salita di giornata e lo fanno con grande coraggio ed impegno. Daniel Scherl dà il proprio contributo all'azione e poi in salita Jacopo Samogizio a dettare il ritmo e a tentare di resistere al ritorno di un gruppo che è lanciatissimo all'inseguimento di questi due battistrada. Lo vedete là sullo sfondo il gruppo quando siamo proprio sulle rampe che portano all'inizio della salita di Osigo. Tenta il tutto per tutto Jacopo Samogizio la maglia dell'SC Padovani aperta per far fronte al grande caldo ma è la brillantezza di Lorenzo Rinaldi a raggiungerlo e a rilanciare immediatamente l'azione. L'atleta piemontese della Vigor Cycling Team tenta subito di dettare il forcing sulla sua ruota incollato una marcatura ad uomo quella di Alessandro Pinarello della Borgomolino rinascita Ormelle che non dà il cambio all'atleta piemontese rimane incollato sulla sua ruota deve solo controllare. Rinaldi e Pinarello vengono quindi riassorbiti dagli inseguitori ed è un'altra maglia della Vigor Cycling Team quella di Domenico Cirlincione a rilanciare con decisione l'azione. Un attacco spettacolare quello di Domenico Cirlincione tentato in un tratto non molto impegnativo della salita infatti addirittura la catena sulla 52 per Domenico Cirlincione che nel volgere di poche pedalate va a guadagnare una ventina di secondi sul resto del gruppo e si proietta così sul Gran Premio della Montagna l'ultimo di giornata quello di Osigo. Una volta scollinato ad attendere ci saranno 3 km di falso piano e poi la veloce discesa che riporterà in pianura e quindi all'epilogo verso Cappella Maggiore sulla Gran Premio della Montagna Domenico Cirlincione scollina con 25 secondi sui più immediati inseguitori capitanati da Alessandro Pinarello della Borgomolino Rinascita Ormelle che porterà con sé altri due portacolori della Vigor Cycling Team si tratta di Pietro Mattio e Lorenzo Rinaldi pensate che questa formazione sia rappresentata alla via solo con questi tre atleti e tutti e tre sono quando mancano una decina di chilometri dal traguardo in testa alla corsa in compagnia di Alessandro Pinarello inizia la discesa e su questo quartetto però rientra un altro trappello molto interessante si tratta di Thomas Casasola della Danieli 1914 Second Team Omar Dalcappello dell'Autozai Petrucci Contri Maurizio Cetto e Marco Andreaus della Sali Stefan Omap quindi Simone Grigion della UC Giorgione Giovanni Longato della Libertas Scorzè e Nicolo Arighetti del gruppo sportivo Massì Supermercati questi sette atleti si aggiungono ai quattro che vi abbiamo descritto in precedenza vanno così a comporre un trappello di undici corridori al comando della corsa sul quale tenta di riportarsi anche Gabriella Musizza della Danieli 1914 discesa tecnica e molto impegnativa quella che scende verso la pianura trevigiana e al comando rimangono undici corridori che proseguono di comune accordo vedete cambi regolari in testa alla corsa si sposta Alessandro Pinarello ora è la volta di Lorenzo Rinaldi ma questa intesa si spezza ben presto infatti con l'avvicinarsi del traguardo i ragazzi in testa alla corsa iniziano a fare i conti e iniziano anche gli scatti nuovo attacco deciso di una maglia della Vigor Cycling Team d'altronde la formazione piemontese è in superiorità numerica all'interno di questo trappello e ad andarsene è nuovamente Domenico Cirlincione l'atleta piemontese che è la caccia del primo successo in territorio italiano in questo 2021 che va a transitare nell'abitato di Cappella Maggiore con una manciata di secondi sui più immediati inseguitori sono lì lo vedono potrebbero raggiungerlo da un momento all'altro ma Domenico Cirlincione rilancia nuovamente l'azione tenta di resistere agli inseguitori quando siamo già negli ultimi tre chilometri di corsa un atleta sicuramente tenace questo Domenico Cirlincione che tenta il tutto per tutto per andare a fare il colpaccio sul traguardo di Cappella Maggiore al suo inseguimento non c'è un grande accordo non si riesce ad organizzare al meglio l'inseguimento ma le energie sono ormai all'umicino per Domenico Cirlincione che viene riassorbito quando siamo già nell'ultimo chilometro di corsa e quando ci presentiamo sul rettifilo d'arrivo di Cappella Maggiore a spuntare con grande decisione la maglia della Libertà sascorsa è Giovanni Longato che va ad aggiudicarsi lo sprint davanti a Simone Grigion della Unione Ciclistica Giorgione quindi terza piazza per Cirlincione della Vigo seguono Casasola Mattio Arighetti Andreaus dal cappello Pinarello eccetto Giovanni Longato sprint d'autore qui a Cappella Maggiore sì dai oggi stavo bene mi sentivo bene anche qua nei giri sotto ho sempre tenuto duro sui due strappetti che sembravano facili ma in realtà davano molto fastidio l'ultima salita ho dato tutto anche perché arrivo da due settimane di diciamo vacanza ho un attimo riposato per adesso riprendere per il Lunigiana ho tenuto duro lo sono riuscito a recuperare in discesa qua ho cercato di non farmi scappare nessuna occasione in pianura e qua sul rettilino ho dato tutto quello che avevo serve la dedica per la vittoria la dedica va a tutte le persone che mi stanno vicino a partire dalla mia famiglia dal mio papà da mia mamma dal mio preparatore sportivo saluto Licio e For Performance e ovviamente anche a Geremia e al comitato regionale e soprattutto anche a Giovanni Cordoba il mio allenatore Gino Rova instancabile quando c'è ciclismo a Cappella Maggiore c'è Gino Rova in prima linea assolutamente sì da 18 anni direi anche quest'anno un'altra bella soddisfazione organizzativa una bella soddisfazione come al solito ben organizzata a parere di tanti di tanti tecnici e una buona partecipazione anche di ragazzi validi Presidente il Bike Team Consiglio porta a casa un'altra organizzazione di lusso uno spettacolo oggi vedere gli Junior sulle strade di Cappella Maggiore sì avevamo un pochino qualche numero in meno rispetto agli anni scorsi però comunque sono soddisfatto tutto lo staff ha lavorato bene abbiamo portato a casa la gara anche quest'anno in tranquillità in scioltezza il tempo ci è stato favorevole nodo al vincitore bella gara un bel gruppetto che è arrivato alla fine è stata una bella volata tutto è andato per il meglio sono soddisfatto ringrazio tutti i miei collaboratori Gino Rova che è comunque l'anima ispiratrice di questa associazione il mio vice Veneghin ma comunque tutte le persone che hanno lavorato che stanno lavorando tuttora per mettere via per sistemare per cercare di ripristinare la strada nel breve tempo possibile volevo ricordare il nostro amico Vendram a cui ho dedicato anche come memoria questa gara un mio coscritto è uno che ha contribuito alla crescita e alla nascita di questa società e mi premeva ricordarlo perché comunque nulla togliere a Zambon che comunque il mio amore incontrava anche lui ma Michele era una persona che va e deve essere ricordata e oggi sicuramente si è divertito a vedere questa corsa io penso di sì sia dall'alto che dalle sue montagne si è divertito sicuramente e dalla provincia di Treviso andiamo a Belluno in questo caso una vera e propria festa dalla mattina con i ciclisti più giovani le promesse di domani forse anche di dopo domani fino a concludere addirittura con gli ex professionisti che si sono letteralmente ritrovati e dati battaglia senza però farsi mancare naturalmente tutti i sorrisi del caso il Cyclist Stars Criterium così si chiama una bellissima giornata all'insegna del ciclismo è stata una grande giornata di festa quella dedicata alle due ruote sulle strade del centro storico di Belluno è andato in scena infatti Cycling Stars Criterium edizione 2021 messa in cantiere dallo staff di Veneto Cycling Promotion capitanato da Enrico Bonsembiante e Alessandro Ballan una manifestazione che ha incontrato il supporto della regione Veneto della provincia di Belluno e il patrocinio del comune di Belluno oltre 100 i ragazzini che si sono cimentati nelle prove pomeridiane riservate ai G4 G5 G6 a desordienti e allievi un criterium questo di Belluno che torna dopo un anno di pausa legata appunto al Covid-19 lo fa proprio con il sorriso dei ragazzi più giovani ad aggiudicarsi il successo nell'eliminazione dei G4 è stato Cesare Lira della GS Fonzaso che ha preceduto Joelle Masette e Marta Grassi del pedale Marenese tra i G5 invece successo per Federico Bottegal della Foen Mictu seconda piazza per Matteo Pin della pedale Marenese quindi Matteo Cescon suo compagno di squadra tra i G6 ad esultare è stato invece Niccolò Dezzotti sempre della pedale Marenese che ha preceduto Bruno Mignati della Foen Mictu e Raquel Scessere della Veloce Club Città di Marostica infine le donne esordienti con l'arrivo in parata delle ragazze dell'UC con scio pedale del Sile che ha visto prevalere Elena De Marco davanti a Siria Trevisan e Francesca Genna combattuta anche la batteria delle donne allieve che ha sorriso ad Alice Bulegato della Team 1971 che ha preceduto nello sprint finale Virginia Iaccarino della UC con scio pedale del Sile terzo piazza invece per Esther Luna Gazzola della Breganze Millennium combattutissima anche la corsa a punti riservata agli esordienti che ha visto un folto lotto alla via e ha trovato in Martin Gris dell'UC Fuen Mictu il proprio dominatore il ragazzo in maglia bianca o amaranto infatti è riuscito a fare la differenza involandosi tutto solo e andando quindi ad accumulare i punti in classifica seconda piazza per Giacomo Rosato della Postumia 73 terza per Riccardo Benozzato della Sandrigo Bike ma per tutti questi ragazzi oltre al risultato c'è stata la gioia la soddisfazione di potersi cimentare su uno scenario unico come il circuito cittadino di Belluno che da lì a poche ore ha ospitato anche le prove riservate agli ex professionisti e ai professionisti e noi prima di entrare nel vivo delle gare serali andiamo in zona bus con le interviste raccolte da Mario Guerretta e Franco Damuzzo Davide stasera ci ritroviamo a Belluno con tanti con tanti ex genere emozione questo fatto ma sì è sempre bello vedere anche degli ex ex colleghi direttori sportivi è bello ritrovarsi pedalare condividere la nostra stessa passione ecco poi questo è un bellissimo territorio dove il ciclismo è tanto amato ed è bello che i campioni vengono anche qui a pedalare sei pronto anche per scendere in corsa sì sicuramente oggi sarà una gara molto breve ma vediamo è bello anche divertente Alessandro tanto lavoro di preparazione per questo appuntamento di Belluno siamo ora alla stretta finale già possiamo assaporare il peso di questa serata che poi è spettacolo alla fine sì diciamo che l'obiettivo è quello di portare i grandi campioni per attirare il pubblico ma soprattutto i giovani abbiamo lavorato molto siamo arrivati appunto all'evento stesso quindi grande soddisfazione e speriamo che sia una serata gradita soprattutto da chi viene a seguirci è un punto di partenza perché io credo che ci dovrà essere anche la continuazione no? sì diciamo che è una seconda partenza perché l'avevamo già fatto sia a Montbelluna che è a Belluno poi l'anno scorso lo stop per il Covid e l'obiettivo è quello di farlo diventare ancora più grande e guardando avanti è anche quello di fare più paesi e riportarlo nella data del Giro d'Italia quindi portarlo in concomitanza con l'arrivo del Giro d'Italia il lunedì successivo all'arrivo del Giro per poi magari anche il martedì e il mercoledì organizzare lo stesso criterium in altre città del Veneto e con le nostre immagini con il calare della luce siamo già entrati nel vivo della prova riservata agli ex professionisti che ha visto grande mattatore soprattutto nelle fasi centrali l'attuale commentatore di Eurosport Riccardo Magrini un gruppo quello degli ex professionisti che ha corso con il sorriso sulle labbra senza però risparmiarsi in questo passaggio vediamo al comando la maglia bianca di Alessandro Bertolini sulla sua ruota anche Gianni Faresin con gli inconfodibili colori della zalfera mobile Desiree Fior e poi la stoccata di Alessandro Ballan il campione del mondo di Varese 2008 che ha alzato il ritmo costringendo i compagni di corsa ad andare ad inseguirlo il finale è stato decisamente scoppiettante con tanti attacchi e contrattacchi che si sono susseguiti lungo il tracciato di Belluno che andava via via riempiendosi di pubblico e dunque è stato proprio una bellissima cornice composta dai tifosi ad accogliere lo sprint vincente di Stefano Allocchio il vice direttore del Giro d'Italia ex velocista che si è ricordato proprio delle sue qualità andando a battere allo sprint Riccardo Magrini quindi seguono Alessandro Ballan Lello Ferrara Mirko Selvaggi e Angelo Furlan applausi per tutti gli ex professionisti che si sono messi in gioco in questa manifestazione e mazzo di fiori oltre che medaglia per Stefano Allocchio vincitore della prova sul podio proprio insieme a Riccardo Magrini e Alessandro Ballanna subito dopo gli ex è toccato invece ai big del ciclismo mondiale e prima del via andiamo a sentire cosa ci ha raccontato Giacomo Nizzolo Da Belluno un appuntamento importante con Giacomo Nizzolo stasera è corsa vera? Stasera sicuramente si farà fatica il ritmo sarà alto ho già visto il circuito bello tecnico bisognerà stare attenti C'è bisogno di questo tipo di carmesse? Assolutamente avvicinano il pubblico al ciclismo è un evento nel centro del paese quindi raduna tantissime persone come stasera e anche per noi è abbastanza diciamo allenante si fa un bel ritmo ed è anche divertente Ed è stato proprio il campione europeo uscente già campione d'Italia su strada la stella del gruppo dei professionisti più applauditi sul circuito di Belluno che non si sono risparmiati e infatti proprio Andrea Pietrobon e Riccardo Bobbo hanno acceso le micce su di loro si è portato quasi subito anche Matteo Pelucchi e poi il trio della Bardiani CSF capitanato da Filippo Zana insieme a Fabio Mazzucco e Samuele Zoccarato in gara anche il neocampione olimpico Francesco Lamon insieme a coloro che abbiamo già sentito e quindi Davide Rebellin Davide Bais e poi tanti altri ragazzi che si sono cimentati in questa kermessa finale con uno sprint a tre nel quale Giacomo Nizzolo ha preceduto lo scalatore friulano Matteo Fabbro della Borans Crew terza piazza invece per il decano Davide Rebellin della Work Service Marchiolla Vega seguono quindi Michele Scartezzini Matteo Pelucchi Simone Velasco Andrea Pasqualon Lorenzo Peschi Samuele Zambelli e Davide Bais si chiude così il Cycling Stars Criterium 2021 che già guarda la primavera 2022 per tornare a ruggire all'indomani della Giro d'Italia ed era la nostra ultima clip per quel che riguarda questo nostro appuntamento con la tuta bc extra numero 175 nelle prossime settimane diverse novità che arrivano ovviamente dall'Italian Bike Festival edizione da poco conclusa e di grande grandissimo successo poi faremo una tornata anche su Misano Bike prima edizione dal Misano World Circuit partenza ed arrivo e ancora il progetto Inerit dell'Emilia Romagna via Romagna sempre della PT andate già sul sito per scoprirlo in anteprima via romagna.com e tanto altro ancora grazie per averci seguito l'appuntamento come sempre alla prossima settimana Grazie per aver guardato la prossima settimana